A Teramo la consigliera del Movimento 5 Stelle, Pina Ciamariconi, denuncia lo stato in cui versano le abitazioni consegnate agli sfollati del sisma in via Renato Balzarine e Colleparco. Appartamenti che, detta soprattutto di chi ora vive lì, sono inadeguati, scomodi, non serviti e nel bel mezzo di un enorme cantiere. Ci sono molte criticità e bisognerebbe un attimo stare a fianco dei cittadini, andare a vedere queste criticità e cercare di aiutarli a risolvere, perché sono criticità importanti che si riscontrano nella vita quotidiana di tutti i giorni, come per esempio quello del trasporto. Cioè la fermata dell'autobus sta ad una distanza improponibile, chi non ha la macchina deve fare tantissima strada a piedi e anche la strada non è neppure in piano, c'è una bella salita da percorrere con il sole oppure con la pioggia, è veramente difficile da raggiungere. 14 famiglie alle quali presto se ne aggiungeranno altre 5, sistemate negli appartamenti di una delle due palazzine di recente costruzione al ridosso dell'università. Quella palazzina doveva essere una struttura di un certo livello, c'era la domotica e ci sarebbe stato tutto perfetto se il progetto fosse andato avanti, invece adesso è stato adattato a delle abitazioni normali, per cui ci sono tante cose come per esempio i vetri che dovevano oscurarsi da soli e invece questo progetto non è andato a termine, per cui i vetri sono delle finestre, sono senza tapparelle, senza persiane e sono dei vetri normalissimi, quindi si è costretti a mettere delle tende molto pesanti, delle tende oscuranti e visto gli spazi ristretti degli appartamenti è veramente difficile stare a queste temperature con una tenda che non lascia passare neppure un po' d'aria. Oltre questo c'è anche il problema dell'igiene, lì c'è un muro contro terra proprio dietro alla palazzina, ci sono delle colonne di ratti, sono tantissime le criticità, queste sono solo alcune. Ho visto ieri che ci sono anche problemi di condensa, di infiltrazione, c'era un pezzettino di cartongesso del soffitto che era caduto proprio perché si era formata questa condensa, si era formato questo deposito di acqua. Io penso che i cittadini, non è perché gli è stata data una casa, si possono lasciare così, ci sono delle criticità, vanno assolutamente risolte.